Come promesso dal governatore De Luca, i controlli diventano più incisivi. Questa mattina un drone dei carabinieri ha sorvolato su fuorigrotte e pozzuoli. I carabinieri delle rispettive compagnie hanno setacciato le strade delle città, avvalendosi del supporto del velivolo pilotato dai militari del settimo nucleo e ricotteristi carabinieri di Ponte Cagnano. L'obiettivo era di accertare eventuali assembramenti e il rispetto dell'enorme anticontagio. I carabinieri hanno controllato le persone in strada, chiedendo i motivi per cui erano usciti. Questa mattina si è appurato come la cittadinanza di fuorigrotte e pozzuoli abbia preso coscienza del distacco sociale da osservare per evitare il contagio. I controlli con il drone erano stati effettuati anche nel quartiere di Scampia. I luoghi di maggiore interesse sono gli ingressi dei supermercati, gli uffici postali, le fermate dei bus, ma non solo. Si controllano anche vicoli e strade periferiche. A sollecitare i controlli capillari, il governatore De Luca, che aveva promesso l'arrivo dell'esercito proprio nelle zone dove i casi di contagio sono in forte aumento. Nel dettaglio, si legge nella nota della regione Campania, a Torre del Greco si è registrato un picco di 40 casi e una presenza irresponsabile e diffusa di persone nelle strade cittadine. Così a Casoria, Fragola e in strade centrali di Napoli. È necessario richiamare ogni cittadino a comportamenti irresponsabili, ha scritto De Luca, ma è necessario evidentemente un controllo più capillare, anche un'attività ripressiva. A tale scopo, il presidente De Luca ha formalizzato la richiesta di rafforzamento della presenza di forze armate in Campania a supporto dell'attività di controllo già in essere.